Nono posto in classifica, 42 punti conquistati e la certezza, più che la sensazione, di aver perso una grande occasione per il salto di qualità. La nuova Andrea chiude il campionato di prima categoria a girone A con più di un rammarico, consapevole di aver avuto i mezzi per provare a conquistare la promozione e non averli sfruttati a pieno. Resta la soddisfazione, in ogni caso, di aver fatto esordire tanti giovani di buon talento. Il bilancio tecnico è sicuramente positivo perché se devo mettere nell'insieme tutta quella che è stata la cavalcata della nuova Andrea e per come ci siamo arrivati alla fine, sicuramente devo essere contento e orgoglioso di quello che i ragazzi hanno tirato fuori. Ovvio che la primissima parte di stagione con la rosa a disposizione avevamo ben altre ambizioni. Purtroppo abbiamo perso molti punti per strada contro squadre ancora di più alla nostra portata e questo sicuramente è stato frutto di una mancanza di capacità di gestire delle volte dei risultati. Molti elementi a gennaio non si sono presentati alla ripresa degli allenamenti. Subito dopo la sosta di Pasqua abbiamo letteralmente mollato psicofisicamente tutto. Il futuro dell'allenatore Cosimo Sinisi resta legato alla nuova Andrea ma ora è il momento di sedersi ad un tavolo e programmare la prossima stagione per provare a cercare quel salto di qualità mancato sino ad oggi. Sarà sempre comunque legato alla nuova Andrea, questo mi sento di dirlo, però è chiaro che bisogna fare un progetto diverso. Soddisfatto il presidente Vincenzo Carbutti per i tanti giovani entrati a far parte della famiglia nuova Andrea resta la consapevolezza che per il futuro sarà necessario attingere nuove risorse molto spesso difficili da trovare a questi livelli. Sicuramente un anno positivo, un anno di ulteriore consolidamento per quanto concerne il settore giovanile, i giovani, il voler continuare sempre comunque con la linea green, la linea verde che ha portato degli ulteriori frutti, tanti giovani del settore giovanile che hanno esordito in prima squadra. Adesso bisogna ripartire con il nuovo anno, bisogna cambiare qualcosa per cercare di fare un passo in avanti. Per programmare cose di questo genere servono prima di tutto risorse economico-finanziarie e non solo, cosa che purtroppo alla nuova Andrea è un handicap che ci portiamo avanti da tempo, per cui noi la possibilità di crescere, di fare qualcosa in più non ce la precludiamo mai. Però è ovvio che finché la nuova Andrea inizia con Vincenzo Carbutti e finisce con il mister Cosimo Sinisi, difficilmente si potrà fare qualcosa di più importante rispetto a tutto ciò che la nuova Andrea fa oggi.